Musica Tensione nel centro-destra regionale, fratelli d'Italia con una nota scarica a Solinas e si dice pronto a convocare il tavolo regionale per la scelta del candidato presidente ma ora si rischia la spaccatura, Lega e Pisdaz difendono l'attuale presidente Ad Alghero invece, weekend di riflessione dopo il ritiro delle deleghe e gli assessori di Forza Italia da parte del sindaco, dura nota sia del capogruppo azzurro Camerada che del centrista Mulas Nella pagina sportiva del lunedì tutti i risultati del fine settimana l'amatori rugby perde ancora in Serie A l'Alghero Calcio vince in casa contro la Basanta spazio anche alle altre squadre di calcio e poi a futsal e basket Un saluto a tutti voi, ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale come avete visto e sentito dai titoli in primo piano la politica, intanto quella regionale nel centro-sinistra c'è la spaccatura tra la Tod e Sorum anche nel centro-destra iniziano ad esserci tensioni Sabato è arrivata la dura nota di Fratelli d'Italia che di fatto esclude l'ipotesi Solinas-Bis Fratelli d'Italia che ha intenzionato a convocare il tavolo regionale ma la coalizione rischia di spaccarsi sentiamo perché Non ci sono più le condizioni per sostenere un suo secondo mandato recita così la nota della senatrice, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Antonella Zedda il riferimento è all'attuale presidente Cristian Solinas non solo la bocciatura del governatore sardista nella nota ma anche la decisione di convocare un tavolo di coalizione per decidere assieme agli alleati della maggioranza si legge quale sia la strada da percorrere assieme per tornare alla guida della nostra terra un tavolo sardo, chiarificatore, inclusivo come i più alleati hanno chiesto in questi giorni vogliamo solo che la nostra chiara identità possa essere al servizio della nostra coalizione per governare di nuovo assieme per battere un centro-sinistra confuso l'esperienza di questa coalizione prosegue la Zedda deve continuare ma avere la maturità politica di comprendere dove ha sbagliato e deve proseguire aprendosi agli ulteriori contributi che altre forze politiche con visioni simili potrebbero offrire se la decisione di convocare il tavolo regionale è stata accolta favorevolmente da Ugo Cappellacci siamo pronti a dare il nostro contributo di idee valori e programmi per i prossimi anni dice il coordinatore di Forza Italia il passaggio su Solinas invece non è stato chiaramente ben digerito da Lega e Pisdaz non ci può essere nessun veto nei confronti del presidente Solinas e della giunta in carica afferma il coordinatore regionale del carroccio Michele Pais la Lega lavora e continuerà a lavorare per l'unità della coalizione chi divide il centro-destra fa il gioco della sinistra e questo è inaccettabile altrettanto se non più duro il commento del presidente del Pisdaz attuale assessore trasporti Antonio Moro il titolo a convocare la coalizione lo ha il presidente poi ognuno è libero di convocare futuribili tavoli di potetiche altre coalizioni assumendose nelle responsabilità politiche dice Moro non escludendo una corsa solitaria del partito sardista possibile la presenza al tavolo da parte del grande centro che ha tuttavia accolto l'invito della Zedda in maniera tiepida e criticato il metodo scaricare l'attuale presidente con una nota stampa è un atteggiamento che non ci piace perché un'alleanza deve invece saper discutere guardandosi negli occhi in settimana comunque sono attese novità sia per la convocazione del tavolo regionale chiesto da Fratelli d'Italia sia per l'incontro tra i leader nazionali che potrebbe risultare davvero quello decisivo ad Alghero invece tiene banco la situazione nella maggioranza dopo il ritiro delle deleghe agli assessori di Forza Italia le parole del sindaco Conoci nel fine settimana sono arrivate le dichiarazioni di Nunzio Camerada e Cristian Mulas capigruppo rispettivamente di Forza Italia e Udc la frattura del sindaco Conoci e Forza Italia e Udc sembra al momento insanabile lo si capisce anche dal tono dei comunicati inviati dal capo gruppo azzurro Nunzio Camerada e da quello dell'Udc Cristian Mulas siamo seriamente preoccupati per la mancanza di serenità che traspare dalle dichiarazioni di Conoci cosa che ci fa temere pesanti ripercussioni sulla soluzione dei problemi della nostra comunità ci siamo sempre solo limitati a fare proposte se abbiamo votato un emendamento dell'opposizione l'abbiamo fatto solo allorché l'opposizione ha chiesto il voto favorevole per l'attuazione di ordini del giorno già approvati dal Consiglio Comunale e proposti da consiglieri di maggioranza ferma Camerada riferendosi in particolare ai due emendamenti alla variazione di bilancio oggetto della rottura l'abbiamo fatto alla luce del sole facendo motivate dichiarazioni in aula e votando pubblicamente non facciamo inciuci di piccolo cabotaggio come qualcuno che per cercare di galleggiare svilisce la coalizione attacca Camerada abbiamo cercato di dialogare con Conoci su questi temi ma abbiamo ricevuto solo generici impegni e categorici diktat a cui ha fatto seguito una balzana e motivata revoca dei nostri due assessori che ringraziamo per l'impegno profuso e gli obiettivi raggiunti in questi anni e ai quali garantiamo il nostro assoluto sostegno Forza Italia è un partito responsabile che continuerà a lavorare per portare a compimento gli impegni assunti con gli algheresi nonostante l'atteggiamento vanamente muscolare di Conoci ma di sicuro Forza Italia non si farà mettere il guinzaglio la museruola le ali sì ma sottomessi no anzi sottomessi solo all'impegno di lavorare per Alghero e gli algheresi conclude il capogruppo Azzurro non meno dure le parole di Christian Mulas capogruppo dell'Udc colpisce il suo concetto del cane al guinzaglio ferma rivolgendosi al sindaco chiariamo subito che il nostro guinzaglio sono gli elettori algheresi che con la loro espressione del voto e con le loro proposte ci consentono di svolgere il nostro importante lavoro nella massima assise cittadina lavoro che tuttavia facciamo senza l'apporto di diversi suoi consiglieri che snobbano continuamente consiglio e commissioni con assenze ingiustificate dopo aver difeso il voto sugli emendamenti Mulas attacca Conoci sul piano politico parlando da parte sua di distruzione perpetrata nel centro-destra sardista in cinque anni non ha mai convocato una riunione di coalizione invece è stato ben disposto a quasi quotidiani pomeriggi il conviviale a portaterra con i pochi eletti fidati una delle accuse mosse dall'esponente centrista noi continueremo a lavorare per Alghero senza sé e senza ma conclude nella speranza che ci sia un ravvedimento volto a chiudere al meglio questa vacillante esperienza amministrativa anche per quest'anno scolastico l'istituto alberghiero di Alghero ha voluto confermare la positiva esperienza di scambio culturale con l'istituto Joan Ramon Benapres a scuola d'ostaleria de Sigis otto alunni selezionati tra le eccellenze della scuola accompagnati dal professor Franco Silanos sono partiti il 16 novembre alla volta della Catalonia per affrontare un'attività già proposta in passato della durata di una settimana è consistente a non mettere a confronto le differenti tecniche culinarie di servizio delle due scuole interessate le attività si svolgono nei laboratori dell'istituto ospitante ad Alghero l'iniziativa è stata appoggiata dall'obra cultural dell'Alghè che ha anche organizzato il corso di catalano rivolto agli studenti tenuto dalla professoressa Maria Antonietta Salaris l'intenzio è sempre quello di strutturare questo scambio e renderlo replicabile anche nei prossimi anni questo quanto dichiarato dal dirigente scolastico dell'istituto alberghiero il professor Vincenzo Scano che aggiunge le esperienze di questo tipo vanno ad arricchire il bagaglio culturale e professionale degli studenti delle due scuole con implicazioni sociali e ambientali e rappresentano sicuramente un ulteriore sviluppo dell'offerta formativa che la nostra scuola propone gli studenti catalani che affronteranno la medesima esperienza ad Alghero nel prossimo mese di maggio saranno inseriti in aziende operanti all'interno del parco di Porto Conte e potranno così conoscere le realtà del territorio il progetto Chiara ideato dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Sardegna Carla Puligheddu tra ispirazione della tragica vicenda di Chiara Carta privata della vita all'età di 13 anni il 18 febbraio 2023 un progetto finalizzato alla diffusione della cultura dei diritti nel territorio regionale della Sardegna e oltre con azioni e interventi nella scuola attraverso la pubblicazione di un book cartaceo e mediatico attualmente lavorazione editoriale propone inoltre in occasione delle due giornate internazionali dedicate il 20 novembre diritti dei minori il 25 novembre contro la violenza sulle donne il convegno dal titolo diritto all'ascolto delle e dei minori ruolo della famiglia e delle istituzioni in collaborazione con la facoltà di studi umanistici dell'università degli studi di Cagliari i temi dei diritti e della violenza uniti da un filo rosso rappresentato dalla storia di Chiara saranno entrambi affrontati sabato 25 novembre a Cagliari sono invitati ovviamente tutti a partecipare anche accompagnati o accompagnate dai minori una buona occasione per parlare e riflettere insieme a figure professionali di alto livello per mettersi in ascolto e comprendersi un passaggio ora sulla nuova settimana di attività dell'università dell'Etreta di Alghero domani alle 9 al parco di Portoconte a Casa Gioiosa si terrà un incontro sul progetto Eco Report sui primi due moduli ecosostenibilità comunità opportunità denominati filiera cerealicola e filiera vitivinicola interverranno la professoressa Rosella Mozzo professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbace presso il dipartimento di agraria dell'università di Sassari il professore Emanuele Farris professore associato del dipartimento di scienze chimiche fisiche matematiche naturali dell'università di Sassari dottor Bruno Sat dell'agenzia laurea dottor Tommaso Sussarello libero professionista giornalista ed esperto in enogastronomia e sempre domani martedì 21 novembre alle 16.30 presso la sede di via Sassari il professor Nicola Salvi otterrà la conferenza dal titolo La scrittura creativa e ora come ogni lunedì un'ampia pagina sportiva che apriamo come sempre con il rugby inesima sconfitta purtroppo per l'amatori Alghero contro l'amatori Union Milano la gara disputata in Lombardia si è conclusa con il punteggio finale di 19 a 15 che ha comunque consentito alla formazione algherese di conquistare un punto di bonus difensivo la classifica dice però che nonostante il punto guadagnato la formazione algherese è ultima con soli due punti in sei partite davvero troppo poco in questo avvio di stagione l'avversario di ieri era certamente alla portata e questo rende ancora più amara da digerire la sconfitta visto anche un primo tempo chiuso in vantaggio per 12 a 0 ma nella ripresa c'è stato un crollo che ha permesso i milanesi di far propria la partita tante sono ancora le gare da disputare ma serve assolutamente un cambio di marcia fin da domenica prossima in casa contro il rugby Parma ora il calcio ieri pomeriggio Alpino Cucuredu di Maria Pia l'Alghero ha battuto 4 a 3 la Basanta partita che sembrava chiusa già nel primo tempo ma la formazione giallorossa si è complicata la vita da sola il commento di Carlo Branca e subito dopo le parole a fine gara dell'allenatore algaresi Gianmarco Giantonio il confronto calcistico quello avvenuto ieri al Pino Cucuredu tra l'Alghero e a Basanta rientra d'obbligo tra quelli da vietare severamente ai deboli di cuore oppure consigliatissimo agli amanti del genere thriller dipende ovviamente dai gusti personali di ognuno il 4 a 3 finale premia i giallorossi locali con tre punti importanti per mantenersi in scia tra le battistrade di un torneo ancora senza padrone ma la fatica è stata tanta così quanto la paura di non farcela al cospetto di una formazione combattiva ma pur sempre ultimi gradatori del girone l'undici griffato Giandonna ha evidenziato che i gol di sa fare sia in quantità che in qualità in ugual misura li prende e come se li prende quasi con naturalezza dir poco disarmante e qui la domanda delle domande scatta in autonomia dove si vuole andare se si ambisce un campionato di vertice corre l'obbligo a porre i giusti correttivi in un organico deficitario in alcuni ruoli chiave gli uforici intenti bellici manifestati ai nesti di partenza dalla corrente stagione appaiono al momento collocati nel dimenticatoio l'istantanea virtuale è questa c'è poco da girarci intorno così non si va lontano è pacifico anche l'ultima in classifica è stato motivo di apprezzione altrimenti consigliamo per il futuro di abbinare al biglietto d'ingresso anche una buona dose di un salutare cardiotonico basta dirlo vabbè non è una novità visto che anche qua in casa è capitato anche altre volte evidentemente non ci divertiamo se se non accade questo ci siamo fatti un po' i gol da soli è una situazione che si è verificata anche in altre partite con degli errori secondo me evitabili però abbiamo sbagliato nel non non chiuderla prima anche se dopo il 3 a 2 poi abbiamo fatto il quarto è stata una partita che ha vissuto di questi momenti ci siamo mangiati poi anche altri due o tre gol poteva finire anche con un ponteggio più ampio e invece come è capitato anche sabato scorso dove una gara diciamo già in ghiaccio già dominata non ci siamo mai rifatti del male da soli e siamo costretti a soffrire però ci teniamo buoni i tre punti io dico i ragazzi hanno fatto una prestazione secondo me più che positiva più che positiva soprattutto dopo il gol iniziare loro ci poteva essere un po' di smarrimento invece ci siamo rimessi a posto abbiamo giocato abbiamo tenuto anche un buon palleggio ho visto delle buone cose quindi sono abbastanza soddisfatto si prendono questi tre punti una classifica che si sta delineando sì adesso io non so ancora i risultati delle altre squadre sinceramente noi dobbiamo pensare al nostro di percorso diciamo che fra tre quattro domeniche penso che ci sarà già una situazione più delineata anche davanti nelle prime posizioni ci aspettano veramente quattro cinque parretti importanti per la classifica vediamo anche come è andata negli altri campionati di calcio nel girone D di prima categoria sconfitta di misura per l'Olmedo sul campo del Valle Doria 1-0 con gol arrivato nel finale bianco-verdi che restano a quota 8 punti raggiunti proprio dal Valle Doria nel prossimo turno il match casalingo contro il Ploaghe nel girone di seconda categoria la FC Alghero batte il Treseliges per 3-0 con gol di Capitan Pintus e doppietta di Cherchi e prosegue il cammino a punteggio pieno con 24 punti Treseliges che invece resta ultimo con un solo punto sinora conquistato chiudiamo la carrellata con la terza categoria la netta affermazione della Palma Sporting Alghero 6-1 sul campo della Villier ora prossima partita contro il centro storico Sassari al terzo posto con 10 punti come gli algheresi e dal calcio a 11 passiamo al calcio a 5 nella sesta giornata di Serie B buon pareggio per la Fuzza l'Alguero 6-6 sul campo del Real 5 Raw che sino a sabato guidava la classifica del girone A partita movimentata e combattuta con i padroni di casa che riescono a chiudere sul 4-2 il primo tempo nella ripresa la squadra di Mr. Monti prova dei terri ritmi riesce a raggiungere il 5-5 finale convulso con un nuovo vantaggio del Real 5 Raw e poi il pareggio definitivo di Molina autore di una doppietta al pari di Capitan Idili sabato assegno anche Fiori e Becca giallorossi che salgono a quota 2 nel prossimo turno affronteranno in casa il fanalino di coda Castellamonte ancora a 0 bella vittoria invece per l'Under 19 7-6 al Palamanchia contro il sesto primo tempo che finisce 3-1 per la formazione giallorossa poi nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in carreggiata ma senza successo per i ragazzi allenati da Valentino Neri 3 punti importanti e ulteriori segnali di crescita così come per l'Under 15 guidata da Daniele Pica che la scorsa settimana ha affrontato il Tissi in una amichevole chiudiamo pagina sportiva TG con il basket cominciando dal risultato della Mercedes femminile che nell'ottava giornata di andata del campionato di Serie B ritrova la vittoria dopo due scusate dopo due sconfitte consecutive finita 96-91 la gara casalinga contro il Selarjus disputata sabato una gara giocata bene dalle ragazze di Manuela Monticelli che in tutte le frazioni hanno provato a scappare hanno comunque dovuto far fronte ai tentativi di ritorno delle Selargine il risultato finale infatti è la prova che la formazione ospite non ha mai mollato ma alla fine la Mercedes è riuscita a conquistare meritatamente i due punti la formazione algerese è salita a quota 10 passiamo ora alla pallacanestro maschile prima vittoria in trasferta della classe Coral Alghero che spugna il campionato di Iglesias con il risultato di 74 a 63 si porta a 6 punti nella classifica di divisione regionale 1 dopo aver chiuso il secondo quarto sotto di 11 punti gli algheresi hanno ribaltato la situazione sugli scudi Juan Saud autore di ben 41 punti e Vittorio Musso che hanno guidato i più giovani nel prossimo turno del match casalingo contro il fananino di coda basket Oristano nella divisione regionale 2 invece dove milita la pallacanestro alghiero la formazione di coach Mastropietro non è scesa in campo visto il turno di riposo e a proposito di sport prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 22.15 con Catalan Sport il programma condotto da Carlo Branca e per oggi è davvero tutto io come sempre adesso vi lascio alle previsioni del tempo per domani grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.